La scoperta di una maxi piantagione di marijuana nelle campagne di Riesi ha portato all'arresto con applicazione della custodia in carcere di 11 persone, ora accusate di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Un prologo al blitz di sabato si era avuto lo scorso 21 giugno, dopo l'arresto di 4 persone sorprese all'interno della piantagione di Contrada Figotto. I carabinieri hanno scoperto una distesa di 20.000 piantine di marijuana che potevano fruttare, una volta che lo stupefacente fosse stato messo sul mercato, circa 16 milioni di euro. Dunque ancora un colpo a danno del business della droga messo a segno dai carabinieri nella zona di Riesi. Degli 11 arrestati solo 4 sono originari della zona del paese, mentre altri 7 sono originari della provincia di Palermo, conferma dell'interesse per il sud della provincia nissena anche da parte di componenti della criminalità del capoluogo regionale. Non a caso nelle scorse settimane era emersa la circostanza che alcuni componenti della cosca mafiosa di Santa Maria del Gesù, arrestati nel corso del blitz navel, avevano degli interessi in un'altra piantagione di marijuana scoperta nel territorio riesino.